Anche nel 2023 il calendario Stop al Bullismo, promosso dal comitato WISP Cirie VII Chivasso e patrocinato dalla città metropolitana di Torino, proporrà una riflessione su di un fenomeno che può essere devastante nella vita degli adolescenti e dei giovani. Nella sede della città metropolitana il calendario è stato presentato ai giornalisti, al vice sindaco metropolitano Jacopo Suppo, ai consiglieri metropolitani delegati Sonia Cambursano, Valentina Cera e Pasquale Mazza. La pubblicazione e la diffusione del calendario possono contare sulla collaborazione dell'associazione Bullismo No Grazie, fondata dall'attore Fabio Denunzio. Come nella scorsa edizione sono stati i giovani di alcune associazioni e istituzioni sportive, scolastiche e culturali a prestare i propri volti per sensibilizzare sul tema. La città metropolitana a sua volta sensibilizzerà i comuni e le scuole del territorio, affinché il calendario possa avere la diffusione più capillare possibile. E con una selezione delle immagini di cui sono protagonisti gli allievi dell'Istituto Comprensivo di Borgaro, verrà allestita una mostra itinerante da esporre in spazi pubblici. Il messaggio deve passare in tante scuole e tanti comuni? Assolutamente sì, questa iniziativa di contrasto al bullismo e al cyberbullismo deve essere una priorità anche per la città metropolitana, che ha una rete molto solida con le scuole del territorio e ovviamente con le amministrazioni locali e con i sindaci. L'impegno che ci prendiamo è quello di far conoscere iniziative come queste, di veicolare anche nelle scuole e anche sui nostri territori, utilizzando tutti i canali che sono a nostra disposizione, questo messaggio di dire no al bullismo, no al cyberbullismo, per un'idea di comunità che sia davvero inclusiva ed educante. Il messaggio che deve soprattutto passare tra i ragazzi ed è un messaggio che è lanciato da ragazzi della stessa età in queste immagini? Il messaggio che noi lanciamo e che lanciamo anche i ragazzi e che i ragazzi devono lanciare è quello di parlare. Bisogna parlare, quando accade qualcosa, un atto di bullismo, di cyberbullismo o qualcosa che non va bene, bisogna parlare con i propri genitori oppure con gli insegnanti, con i dirigenti scolastici. Non dobbiamo tenere nulla dentro perché tenere dentro vuol dire farlo marcire e quindi poi stare male. Bisogna immediatamente parlare perché un atto di bullismo, di cyberbullismo, deve essere fermato subito e non invece far passare a volte mesi e come ho incontrato sulla mia strada a volte anni. Quindi tutto quel tempo vuol dire stare in sofferenza, parlare, dialogare immediatamente. E anche aiutare le vittime a esprimere il loro disagio e a denunciarlo. Non solo chi vede deve denunciare quelle cose che non vanno bene. Sì, diciamo che, prendiamo esempio in una classe, gli spettatori hanno un ruolo importantissimo. Se dovessero parlare gli spettatori, anche soltanto con le proprie famiglie, è chiaro che il bullismo, soprattutto quello in classe, terminerebbe molto facilmente. Il cyberbullismo è un po' più complicato. Lì devono realmente parlare con i propri genitori. Quando ci sono situazioni e diventano vittime, devono parlare immediatamente con i propri genitori. Però gli spettatori hanno un ruolo importante. Infatti io mi soffermo molte volte negli incontri che facciamo noi come associazione, Bullismo lo grazie, proprio con gli spettatori. Date una mano voi ai ragazzi, anche perché molte volte il bullo si stanca di una vittima e passa a uno degli spettatori. Quindi invece di dargli possibilità di continuare, fermiamolo subito.